un giorno gesù andò in un luogo a pregare quando ebbe finito uno dei discepoli gli disse signore insegnaci a pregare come anche giovanni ha insegnato ai suoi discepoli allora gesù disse quando pregate dite così padre sia santificato il tuo nome venga il tuo regno dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano perdona a noi i nostri peccati perché anche noi perdoniamo ad ogni nostro debitore e non farci entrare nella tentazione poi disse loro chi di voi se ha un amico e va da lui a mezzanotte a dirgli amico prestami tre pani perché è arrivato da me un amico di passaggio e non ho nulla in casa da dargli se quello dall'interno gli risponde non mi dare noia la porta è già chiusa e i miei bambini sono già a letto con me non posso alzarmi per darti ciò che chiedi vi dico che se non si alzerà a darglieli perché egli è amico si alzerà e gli darà quanto ha bisogno perché l'altro insiste perciò vi dico chiedete e vi sarà dato cercate e troverete bussate e vi sarà aperto perché chiunque chiede ottiene chi cerca trova a chi bussa viene aperto tra di voi quale padre darà a suo figlio che lo richiede un serpente invece che un pesce oppure se gli chiede un uovo gli darà uno scorpione dunque se voi cattivi come siete sapete dare cose buone ai vostri figli quanto più il padre vostro celeste darà lo spirito santo a quelli che glielo chiedono grazie